Colle di Miravalle, campana della pace, anch'essa una meta per i bikers e qui in settembre a partire dal 19 fino al 22 si svolge un festival dedicato all'esperienza, quindi emozioni sportive. Sì, abbiamo organizzato con la volontà del comune di Rovereto, la comunità di Valle e la collaborazione dell'APT, questo festival, questo Vallagarina Experience Festival, dove per quattro giorni inviteremo tutti i locali, i turisti a praticare attività outdoor nel nostro bel territorio e con delle manifestazioni anche legate alla cultura, alla storia, soprattutto il venerdì sera c'è in programma questo outdoor per la pace, questa marcia per la pace dove sposteremo tutti gli amanti dell'outdoor da Rovereto e li porteremo qui alla campana dei caduti.